Affidarsi ad un buon Ender vuol dire affidarsi con fiducia a Roberto Zaniboni, Arabian Training Center, un centro specializzato per la gestione del tuo puro sangue arabo. I numerosi successi in campo internazionale fanno di Roberto Zaniboni un Ender tra i migliori in Europa, Arabian Training Center, un centro specializzato per la gestione del tuo puro sangue arabo. Roberto Zaniboni sarà presente alla prossima Fiera Cavalli Verona e vi invita a visitare il suo stento dal 6 al 9 novembre. Affidarsi ad un buon Ender vuol dire affidarsi con fiducia a Roberto Zaniboni, Arabian Training Center, un centro specializzato per la gestione del tuo puro sangue arabo. Roberto Zaniboni sarà presente alla prossima Fiera Cavalli Verona e vi invita a visitare il suo stento dal 6 al 9 novembre.